Questa è la lettura 8.9.8.5 del maestro spirituale coreano Jin Jong. Come possiamo guarire il nostro pianeta? L'evoluzione completata sulla Terra comporta che anche nell'universo l'evoluzione si sia completata. Le stelle hanno smesso di produrre dei nuovi materiali. L'universo è una fabbrica di cose. All'interno delle stelle, che nel loro interno muovono una enorme massa di energia, venivano prodotti sia dell'energia che dei nuovi materiali per consentire l'evoluzione degli esseri umani. Ora che questo processo è terminato, nulla di migliore di ciò che già esiste verrà prodotto. L'energia continua ad esserci, ma il processo di produzione dei nuovi materiali è del tutto terminata. Noi e l'universo stiamo camminando parallelamente. Dentro l'universo esiste una galassia dove al suo interno trova posto la Terra. Esistono altre tante galassie che si stanno muovendo insieme con noi. Una delle tante galassie che si stanno muovendo e che contiene il pianeta Terra si trova a sua volta all'interno dell'universo. E tutto si sta muovendo insieme, in maniera ordinata. All'interno della nostra galassia ci sono innumerevoli pianeti, e così anche il nostro, e tutti vibrano con lo stesso ritmo. Così come tutto ciò che accade qui, sulla Terra, succede anche negli altri pianeti, e così nelle altre galassie, senza eccezioni. La Terra rappresenta in verità l'unica eccezione, poiché è il solo luogo protetto e protettivo dove gli esseri umani possono vivere e progredire. Noi possiamo vivere solo in questo luogo. Noi stiamo vivendo con lo stesso ritmo dell'universo. Così come l'universo si è espanso del 70%, anche gli esseri umani hanno raggiunto tale soglia di evoluzione. Nessuno è ancora in grado di sapere che cosa succeda al restante 30%. Poiché noi dobbiamo vivere con questo 30% rimanente, dovremmo cercare come vivere, perché questa è la nostra vita. Dobbiamo modellarci il nostro futuro. Non è più come al tempo di nostri nonni, di nostri antenati. Ora il futuro è veramente nelle nostre mani. Siamo noi che dobbiamo aprire la strada, la nostra era. Gli esseri umani sono adesso il centro del pianeta. È il tempo dello In Bon Cide, l'epoca degli umani al centro dell'universo. Ora sono gli esseri umani a poter trasformare la Terra e governare l'universo. È dal 2013 che si sono aperte le porte per poter governare tutta la natura. Noi, esseri umani, abbiamo questa possibilità. Questo è il nuovo modello del nostro futuro. Fino alla fine del 2012 era lo schema del passato. Considerando la regola del 3 su 7, possiamo dividere il modello del passato, 70%, al modello del futuro, 30%. D'ora in poi dovremmo abbracciare il modello del futuro. Solo così potremmo vivere con la gioia. Dovremmo aprire la nostra vita alla gioia. Non si parla di un'epoca buona, ma un'epoca votata alla gioia. Una definizione di epoca buona può solo appartenere al periodo di crescita umana precedente, cioè quella entro il 70%, avendo presente la regola del 3 su 7. Ma ora possiamo parlare soltanto di gioia. Occorre comprendere che cosa significhi la parola buono. Se esistesse buono, però, esisterebbe anche non buono. E questo era l'andamento dell'epoca precedente. Quando arrivava una cosa buona, significava che si saliva, ma poi si scendeva, poi si risaliva nuovamente. Non si trattava di una situazione stabile. Eseguiva un ritmo. Qualcuno vi dice Amore, ti amo. E voi vi sentite tanto bene. Poi, trascorso del tempo senza attenzioni, voi incomincereste a pensare che le cose non vadano più tanto bene. Per cui, il senso del cosiddetto buono non può mantenere la stabilità. Si tratterebbe pur sempre di una situazione momentanea. Ora, il tempo del cosiddetto buono non ha più senso. Ora si parla di un'epoca di gioia. Sarà un'epoca stabile. La gioia non può cadere, non può avere un movimento ondeggiante, ma stabile. È un tempo coerente e noi viviamo in modo coerente, per cui la linea procede dritta, senza oscillazioni. Se il rapporto reciproco fosse benevolo e trattassi la persona che ho di fronte con amorevolezza e la benevolenza fosse reciproca, si riuscirebbe pian pianino a raggiungere lo stato di gioia reciproca. Dopodiché, si raggiungerebbe un senso di completo appagamento e alla fine la vita non potrebbe che essere felice. Durante il primo incontro c'è solo tanto piacere di stare insieme. Dopodiché, passo dopo passo, il solo piacere di stare insieme muta in gioia da ritrovarsi. E così via. Ora possiamo comprendere la differenza tra il volersi bene, frutto della mente, e lo stato di gioia, frutto dell'anima. Questa è un'epoca con un alto grado di intelligenza per cui potete comprendere ciò che vi sto dicendo. Per esempio, se non aveste denaro che qualcuno ve lo desse, questa sarebbe una cosa buona. oppure, se a qualcuno piacessero i diamanti e ne riceveste qualcuno in dono, sarebbe un'altra cosa buona. E sarebbe altrettanto cosa buona se qualcuno vi regalasse un palazzo, così come se riceveste in dono un nuovissimo paio di scappe. Tutte queste sarebbero cose buone. Invece, come andrebbero le cose se ci trovassimo in uno stato di gioia? Innanzitutto, diciamo che i doni materiali non possono provocare alcuno stato di gioia. Le cose materiali sono necessarie, per cui, quando qualcuno ve le offre, la cosa vi fa piacere, vi fa stare bene. Però l'offerta delle cose materiali non provoca il senso di gioia che invece si prova quando si aiuta qualcuno a rimettersi sul cammino della coerenza. In questo caso, voi avreste offerto un aiuto, non di cose materiali, ma diretto a migliorare la sua vita. Non si tratterebbe di bisogni materiali o di trattare le persone con modi gentili, ma vivere pensando al benessere della vita altrui. Ricordate ancora che non si tratta di beni materiali, ma di una vita votata alla fioritura dell'altrui consapevolezza. A questo punto, il beneficato proverebbe della gratitudine nei vostri confronti e questa situazione creerebbe gioia autentica nei vostri cuori. Sono le parole di profondo ringraziamento che ricevete a scatenare questo stato di quiete perfetta. Lo scopo della vita di ogni essere umano è di vivere bene la propria vita. È una cosa assai comune aiutare le persone nel momento del bisogno di cose materiali. Per vivere una vita coerente, invece, ci si dovrebbe aiutare reciprocamente, provando in seguito della gratitudine profonda e facendo nascere la gioia. Nel momento in cui incominciaste a provare la gioia, la vostra energia raddoppierebbe e anche la vostra forza, così che potreste utilizzarla. La forza vi raddoppierebbe, potreste utilizzare la stessa forza della natura. Se però la vostra avidità si mettesse di traverso, non potreste utilizzare l'energia della natura. Se vivessimo però in modo coerente, avremmo a disposizione un maggior ammontare di energia da parte della natura. Io stesso lo sto facendo. Per il fatto che io stia lavorando per rendermi utile alle persone, aumenta la forza messa a mia disposizione dall'universo. Se viveste correttamente il limite dell'energia che vi sarebbe concessa dalla natura, continuerebbe ad allargarsi. se foste delle persone stimate all'interno della società, le banche vi affiderebbero volentieri il loro denaro. Il principio è lo stesso. Questa è la legge della natura che noi stiamo appena toccando. Mi sa che vi siete annoiati. Siamo andati troppo per il lungo? L'inquinamento della terra dipende dal modo di pensare degli individui. occorre innanzitutto sistemare questo punto. Avete compreso?